Prima la riduzione nella programmazione dei voli invernali in Italia, adesso il cambio più oneroso per i passeggeri nella policy bagagli da parte di EasyJet. Dal 10 febbraio sarà dunque più costoso viaggiare con un bagaglio a mano da sistemare nelle cappelliere sopra i sedili. Per non incorrere negli aumenti sarà possibile portare in cabina solo una borsa che possa essere messa sotto il sedile davanti. La decisione ha suscitato critiche sui social media. La compagnia aerea sostiene che il cambio di rotta migliorerà la puntualità dei voli, anche se il provvedimento sembra essere dettato esclusivamente da ragioni economiche. A novembre EasyJet ha riportato la sua prima perdita annuale nei 25 anni di storia della compagnia aerea. Gli aumenti ricalcano le disposizioni varate lo scorso anno dai vettori competitor Ryanair e Wizz Air. C'è però una differenza. Al momento non è previsto un pagamento extra per portare un bagaglio più grande, ma solo uno scarto tra le varie tariffe.